L'azienda agricola Tommaso Masciantonio, che si trova a Casoli, in Abruzzo, si dedica, seguendo ricette tradizionali del territorio, alla produzione di patè di olive arricchiti con sapori e profumi con l'olio aromatizzato e raccoglie anche alcune ricette di piatti preparati usando le varietà di oli prodotti. I suoi oli, costituiti da cultivar gentile di Chieti e Intosso, sono il trappetto di caprafico, olio extravergine di oliva, dop biologico, dal colore verde brillante che al naso esprime la mediterraneità con toni agrumati e aromatici di rosmarino, che in bocca risulta con un equilibrio di sapori amaricante di cardo e piccante di pepe bianco, è ideale per impreziosire un piatto di sagne chietine e il trappeto di caprafico, olio extravergine di oliva, dal colore verde intenso con riflessi dorati e dal registro olfattivo che presenta sentori di oliva verde e una punta agrumata. In bocca entra fresco, con riconoscimenti di cicoria, lattuga, mandorla dolce sul finale, buono da abbinare con un contorno di fagioli alla pecorara. Il borgo di Casoli sorge intorno al mille, nella valle del Sangro, su un colle dell'Aventino. A metà degli anni 1950, dallo sbarramento del fiume Aventino si originò il lago Sant'Angelo, habitat favorevole per la flora e la fauna autoctona. Nella zona si trovano anche la riserva naturale Lago Serranella, nata dall'incontro del Sangro e dell'Aventino, la lecceta di Casoli e il bosco di Colle Foreste. Il chietino risente della presenza del massiccio della Maiella, per gli abruzzesi la montagna madre. I fenomeni carsici hanno forgiato un territorio di rara suggestione, fatto di grotte e tavolati che si alternano a valli scoscese. Lungo i torrenti si incontrano antichi e vecchi mulini ad acqua, preziose testimonianze costruttive di una remota organizzazione agricola. Il Parco Nazionale della Maiella è stato istituito nel 1991 su oltre 74 mila ettari che comprendono il massiccio omonimo, il Monte Morrone, i Monti Pizzi e Porrara. Nei boschi del Parco vivono il lupo appenninico e l'orso bruno marsicano, la lontra e il camoscio d'Abruzzo. A proposito di enogastronomia, nonostante il paesaggio abruzzese sia caratterizzato soprattutto da oliveti, anche le uve locali hanno una grande rilevanza. I vitigni più diffusi sono il Monte Pucciano e il Cerasuolo per i rossi e il Trebbiano per i bianchi. Dalle acque del fiume Aventino si produce la rinomata pasta di Fara San Martino e la bontà del grano abruzzese fa sì che la pasta sia uno dei punti di forza della gastronomia locale. Tipiche della zona di Chieti sono infatti le sagnacce, ossia i maccheroni alla mulinara di Bisenti, i tondini di popoli da condire con salse a base di pesce come la trota o i gamberi. Nella cucina abruzzese si fa molto uso di carne e di pesce. I piatti a base di carne vedono come protagonisti l'agnello e il castrato, il maschio adulto della pecora, mentre sono diffusi anche fuori dai confini della regione gli arrosticini, spiedini di carne ovina cotti alla brace. Nelle preparazioni a base di pesce si utilizzano crostacei e pesce povero. A Chieti si cucina un piatto tradizionale, lo scapece, pesce fritto cosparso di zafferano di navelli conservato in aceto. Fra i dolci del chietino ricordo il famoso torrone ai fichi secchi.